Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo episodio di Scegliete voi il film Scusatemi per il ritardo per l'orca assassina ma è arrivato, quindi state tranquilli se ci sono alcuni ritardi Se io vi ho detto che porto quel film e che l'avete scelto lo porterò anche se ci possono essere dei ritardi o meno Ma cerchiamo di non fare questi ritardi Il nuovo arrivato è La Tempesta Perfetta Con George Clooney e Mark Wahlberg Non l'ho visto, non so un cazzo E poi gli altri due che conoscete, caso mai vi lascio quei link dove leggo proprio le trame Vi dico sto Tokyo, ovvero sono tre trame Un trame è praticamente un regista diverso e ti racconta una storia diversa Tutto ambientato a Tokyo Uno è ambientato, ti ha ispirato a raccontare di questi due ragazzi che cercano casa Sembra una commedia Poi questo qua è un mostro, merda, che si mette a rubare sigarette e rompe col piano la gente E poi questo di Kikomori, che non vuole uscire da casa ma fin quando gli viene questa qua a portargli sempre le pizze Si innamora e vuole chiamare e quindi da Kikomori diventa un'altra cosa La leggenda dei vampiri invece, abbiamo qua un film della Hammer dell'anni 70 Che parla di questo circo che va in questo villaggio che sono quasi in quarantena con la peste Quindi si vanno a divertire al circo Ma sto circo sono tutti i vampiri che si vogliono vendicare di questo villaggio Che gli hanno ammazzato il loro conte In Hitter House Sì, Hitter House Ah, raccontiamo questa trama della tempesta Perfetta Che io non ho visto Spaventoso e carico di suspense Titanic e Jaws messi insieme Addirittura Già quando dicono queste cose ho paura che sarà una minchiata Le onde dell'Atlantico creano muri alti 30 metri Il vento si vila a forza 12 Nell'ottobre 1991 tre furiose tempeste Tra le quali l'uragano Grace Si uniscono in quella che sarà la più grande tempesta documentata della storia George Clooney e Mark Wahlberg guidano un cast d'eccezione in questa terribile avventura Dagli effetti speciali e sensazionali In cui si alternano gli sforzi dei navigatori in lotta Per raggiungere la sicurezza di un porto E l'eroismo delle squadre di soccorso aereo e navale Diretto da Wolfgang Patterson Poseidon La tempesta perfetta vi scuoterà ad ogni onda Ho paura che sarà una grande minchiata Detto questo sceglietela voi ragazzi e ragazze Passa a voi una palla Scrivetevi qua sotto i commenti E quello che sarà più votato verrà portato Come sempre vi ringrazio E al prossimo video Ciao a tutti